Ciao ragazzi, benvenuti ancora in un nuovissimo video di Brazo Crew E oggi eccoci qui con le... per questa nervosa Con sta gamba che mi attrae a me addosso, mamma mia Non è quello Hai cambiato posto Sono fissa E oggi siamo ritornati con un nuovissimo video Intervista doppia insieme a mia moglie Ciao 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 Hanno fatto praticamente tutta YouTube Italia E non solo l'intervista doppia tranne noi Oggi faremo l'intervista doppia Mi fate una ricerca per favore, scusate Deve smettere che non sbatte addosso il coso Perché io poi mi intoppo sulle cose Mi fate una ricerca, mi scrivete poi nei commenti Se effettivamente è tipo dogmatizzata questa cosa Tale per cui nelle interviste doppie L'uomo debba stare a sinistra e la donna a destra O meglio ancora il proprietario del canale a sinistra e l'ospite a destra E' così, cercate Mi fate una ricerca Favij, Giulia Penna, Howard Sì ma se c'è lo salta di regola Ci sarà uno schema, ci sarà un... Non c'è uno schema Chi è che c'è lo schema? Una descrizione Non c'è lo schema, è proprio visibile Non c'è uno schema, nessun altro fatto E vabbè, io farò la ricerca Vabbè, già dobbiamo litigare dall'inizio Partiamo con l'intervista doppia Intanto iscrivetevi al canale e premete la campanella Per non perdervi nessun altro video Nome Maurizio Valentina Soprannome Brazzo Criu Titta Età 38 anni Appena fatti, non è vero A febbraio l'ho fatti L'età è uno stato mentale, passiamo oltre Altezza 1,86 1,87 1,71 Mi sono rincarcata, regalo più alto Io pure ero 1,87 Forse abbasso 1,86 Nazionalità Brasiliano Brasiliana Italiana Luogo di nascita Rio de Janeiro Roma Colore degli occhi Verdi Verdi Verro, celesti Parezzio Colore dei capelli Erano neri, adesso stanno diventando un po' brizzolatini Se dice sale e pepe allora Sale e pepe Per il momento castani rossi Per il momento Ho conosciuto che era bionda, poi è diventata mora, poi è diventata... Segni particolari Segni particolari, bellissimo È una cifra proprio Segni particolari, ciò, segni particolari Ciuffo Cicatrice sul naso Colore preferito Verde E... viola Titolo di studio Diploma in grafico pubblicitario 5 anni dei superiori Laurea triennale in lingua e comunicazione internazionale Sto cavolo Che lingua parli? Inglese, francese, spagnolo Parole di cinese Ormai parole Professione attuale Allora, attuale youtuber Quella vera? Quella vera grafico pubblicitario Onicotecnica Potevi fare l'astrofisica nucleare Cioè, parlare in lingue Andare a parlare con gli alieni Sì, con gli alieni Come vi siete conosciuti? Allora, ci siamo conosciuti Vai a parlare prima te? Allora, ci siamo conosciuti Non mi sono a proprietario del canale, sei te? Vabbè, mo sta rossicando perché sto a proprietario del canale Ho detto che mi volevo metto a sinistra Lei non è a destra Capito? Ma io non mi sento bene a destra Mi piace, cioè, di qua Mi piaceva stare là Ma è un attimo disorientato Che ti devo dire? Adesso non mi sento più a casa Non sto scherzando, eh È come se ti sposti la riga dei capelli È la stessa cosa Vabbè, comunque Ci siamo conosciuti su MSN Nel lontano Nel lontano Non lo so, comunque MSN vecchio Non so se ve lo ricordate com'era Non era Non c'era una cosa Non c'era Facebook Non c'era niente C'era C6 C'era una chat Che andava sempre con nickname E ci stava questo MSN Che andava per indirizzi mail e profili Che ti creavi un profilo Semplicemente spuntando dei dati Delle caratteristiche Tra cui avevo spuntato Mi sembra l'altezza No, occhi verdi Capelli castani In quel momento E l'area geografica E quindi lui aveva effettuato Questa ricerca per caratteri E gli ero comparsa io e no Stas? Eravamo due? Sì, diciamo, dai Sì, poi diciamo che io me ne so chiamata fuori Mi inventavo le peggio balle Non è vero Ha detto, guarda, non lo so Perché t'ho visto un po' troppo Troppo un po' attirata Ha detto, preferisco un attimo la hostess Che mi sta più No, io non è che ero tirata Era questo Che lui era secco annichilito Era una cosa proprio Cioè, aiutatemi a dissecco Siete sposati? Sì, siamo sposati Tra Da quanto siete sposati? Siamo nel 2018 Dal 2013, giusto? 2013, sì 2013? Sì Quindi? Cinque anni? Sì Facciamo un minuto di silenzio Avete figli? Sì No, prima io Dai che so Ma è il proprietario del canale C'hai ragione Sì Ce l'hai? I figli sì Ne vuoi altri? No Forse No Con altro lo fai Può essere, che ne sai Non vuoi dire mai Con altro Con me no Descrivi l'altro con tre aggettivi Tre aggettivi, allora Bella Peride No, aspetta No, aspetta No, simpatica Troppo brutta No, non sei simpatica 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 Aspetta, c'è l'ho Sì Sì, siamo Artruista E comprensiva Visto il lavoro che faccio E sto fino ai 5 di mattina Durante il computer E comprende Perché sa che Si trova da casa Tocca a me? Sì Vero? Sì, dai Arrogante Io? Cafone E carino Sette Aspetta Così devo fare Sei carino Grazie Mortacci Fumi? No, ho smesso Ho smesso da un sacco d'anni Non mi ricordo manco più quanti No Bevi alcolici? Ogni tanto Sono a stemia Ti sei mai ubriacato? Eh, appunto Sì, mi è capitato A voglia Con gli amici Capitato? Sì, sì A voglia Quella celebre funcina Casa o discoteca? Discoteca Casa no Ho fatto un rottino Anche adesso Poi dice che non sai capone Hai mai fatto a botte? A voglia Sono fatto a botte Pure troppe Troppe volte Ovviamente no Come no? Mai? Manca una pizza Adesso che è Brazzo del sociale No Mare o montagna? Mare Ma montagna Ma montagna? Tipo Amalfi Cioè montagne In mezzo sotto c'è il mare Comunque mare Vabbè, sì Sì cosa? Quello Vabbè Pizza o sushi? Pizza Pushi Dai Non puoi Mi spiego da metà Ho capito Ma mi piace tutto La pizza Ma non è Cioè non è Non si può Pushi Il tuo cibo preferito? Ahoi Sveggio E carni Sarebbe riso Fagioli E carne Tutto brasiliano Ma potrei dire La patata al sugo Come potrei dire La carbonara tartufata Le zide al forno De nonna Il tuo film preferito? Il mio primo Sei il mio primo Il mio film preferito? Fratelli d'Italia La parte Quello con Christian De Siga L'avrò visto Mille volte Ma io non lo so Oppure il barbiere di Rio Ma io non lo so Non c'è un film preferito? Non ce l'ho uno Boh che ti dà Di pretty woman La tua serie preferita? Allora serie preferita Su Preferita? Perché non so bene a parlare? Allora la mia serie preferita Su Netflix Narcos Grace Anatomy Vengo questo insieme E c'era una volta E Allora la mia serie preferita Che ormai mi accompagna Da più di metà della mia vita È Grace Anatomy Prima di Grace Anatomy C'è stato Dawson Creek Per l'altra metà della mia vita E poi invece Una serie Da tutti i giorni Tra virgolette È Big Bang Theory Che quelle serie Mi piace troppo Il tuo libro preferito? Come diventare ricchi con YouTube? Certo Link in descrizione Il gabbiano Jonathan Livingston Come ti vedi fra dieci anni? Fra dieci anni? Mi vedo sempre nel mondo YouTube Ma Dietro le quinte Io mi vedo Tutta rifatta Tutta quanta Cioè che manco Mi riconosco da sola Per lì Tipo Viaggio a Casablanca E E torno in altra Sì sì Me lo so Non lo so come Singolo sicuramente Perché poi Non lo so come vedo Tra dieci anni Ah no Tra dieci anni Lo so come me vedo Mi vedo in un camper A seguire mia figlia Sì Ho deciso Che mi prenderò il camper E la seguirò passo passo Perché c'ho l'ansia Scusate La brutta figura Che non dimenticherai mai Eh allora C'è una in particolare Che questa Abba è stata proprio brutta Come figura Stavo in ufficio C'erano due amici miei Davanti al computer Che sistemavano delle foto A un certo punto C'era questa signora Bionda Con Un vestito Tutto nero di pelle Così Non so che stavano facendo A un certo punto Mi avvicino E dico Oh Ma chi è sto mignottone Amico mio fa così Con la testa Con lo tanto al computer Ma chi è E questo mio guarda E fa È mia madre C'è L'altro è diventato tipo Mi volevo sotterrà Eh ma sto scherzando Non so Non sapevo che dire Che figura De merda Eh io non lo so Non c'è una figura De merda Non sei mai entrata In un posto E O magari stai così Ti è partita Da una scoreggiata Improvviso E davanti a tutta la gente No Quello sei te E' capitato pure Quella No mi dispiace Non c'ho bisogno Mi è capitato pure Di fare un rutto In ufficio E c'erano tutte I ragazzi dietro Non me ne ero accorto Perché Perchè una volta Eravamo suddivisi C'eravamo grafici E le stiliste Stavano da un'altra parte Tipo apartheid Sì Ma non era proprio così Però stavamo da un altro ufficio Un giorno ci hanno messo In tutti gli uffici insieme Io lavoravo così Noi eravamo tutti ignorantissimi Se ruppavano Se scuoleggiavano Se faceva tutto Un giorno dal nulla A me ne esco Faccio tipo E si sente dietro Che schifo E io Faccio così Ad ogni Mannaggia Il signore Come sareste oggi Se non vi foste conosciuti? Allora Sicuramente Single Con un appartamentino Più piccolo Di questo Molto più piccolo Magari invece Della Ford Cuga C'aveva un PMV C'aveva meno Capelli bianchi E niente Io tipo simile adesso Con altro Che cazzo È facile come cosa Hai un sogno nel cassetto? Sì Ce l'ho Non dico cosa Ce l'ho comunque Vabbè Il sogno più grande Penso sia quello di Di raggiungere Una stabilità economica Da poter Mettere Dei soldi In banca Per le mie figlie E vederle felici E contente A 18 anni E sì Vabbè Poi meno la stessa cosa Riuscire a Copia Si copia Non è che copio Non c'ho una figlia Quindi Riuscire a dargli Una stabilità Per il futuro Riuscire a vedere lui Che Vi sono piaciute Queste domande? Sì dai Si può da fare di meglio Hai scritto te? Sì No No Veramente guarda Le domande È di una penalità Manda un bacio All'altro Perché sto a sinistra Devo invertire Dai Sì Dai così Così Abitudine Perché Lui è il proprietario Del canale Questa è la mia parte Questa è la mia parte E tu la senti Appena appena Con la tua spalla Fai la chiusura Del tuo video Ok faccio io Ma lo fai pure te No Tu mi permetterei mai Il proprietario Del canale No Perché stiamo scherzando Ok ragazzi Questo è il video di oggi Lasciate tanti like Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Premete la campanellina A 15 metto like Vedete un altro video Insieme da Valentina Io nel frattempo Vi saluto Vi ringrazio Vi do un grande Grandissimo abbraccio E al prossimo video Ciao Adesso fallo te No no Non mi permetterei mai Veramente C'è proprio Un'invasione De campo Che non No